Un appartamento in una palazzina nuova, ridosso della strada dei vivai, dietro la chiesa di Villa Tora. Da un anno vi si prostituivano due donne dalla vita apparentemente normale. Una impiegata padovana, 43 anni, sposata e con figli, in aspettativa dal lavoro e una casalinga, 42enne, residente in provincia. I clienti erano sempre gli stessi, alcune decine di varie professioni e stati civili, tutti benestanti. Le prestazioni sessuali delle due donne costavano 150 euro. Il loro giro d'affari mensile raggiungeva i 12.000 euro ciascuna, tutto bloccato dai carabinieri di Legnaro. Una persona insospettabile, una donna avvenente, sicuramente, e che aveva inserito questo annuncio su questo sito online, dove veniva di volta in volta contattata dai clienti. Le due insospettabili escort versavano al padrone di casa una 2.000 euro al mese, l'altra 120 euro al giorno. L'appartamento era organizzato con vari comfort, i clienti vi restavano anche più di un'ora, con rifornimenti di bevande, di accessori e indumenti sessuali, l'uso della doccia e il cambio biancheria. Se ne occupava il proprietario e questo è un reato. L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Padova per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'uomo è un 48enne imprenditore, abitante ad Albignasigo. I clienti avevano conosciuto le due donne dopo contatti su siti di escort online. I clienti avevano conosciuto le due donne dopo contatti su siti di uomo.